Prima da titolare in campionato, per Pietro Ciotti quanto mancava il campo? Tanto, tanto. Diciamo che il campo è il mio lavoro, quindi mi è mancato tanto giocare. Eri stato protagonista l'anno scorso con la Fidelisandria. Ci racconti un po' questi primi mesi in panchina? Vabbè, per me è stato difficile, perché soprattutto non arrivavano i risultati, quindi era ancora più brutto e si soffriva ancora di più. Adesso, che diciamo, sono un po' preso in considerazione, cercherò di dare il massimo e di aiutare i miei compagni. L'anno scorso laterale nel 3-5-2, quest'anno terzino a 4, processo comunque di assestamento superato? Vabbè, io nella mia carriera ho fatto l'80% di partite da terzino destro, quindi l'altro 20% l'ho fatto negli altri ruoli. Quindi diciamo che è il mio ruolo naturale. Quanta amarezza c'è per questa sconfitta di Crotone, sia per il risultato sia per il modo in cui è maturato con quelle scelte arbitrali che hanno fatto tanto discutere? Di fuori delle scelte arbitrali che ci possono stare, diciamo, gli arbitri sbagliano come noi calciatori. C'è tanto rammarico perché potevamo vincerla. Abbiamo avuto tante occasioni che le abbiamo sprecate, soprattutto sul 1-0 abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-0 più volte. Nonostante ci hanno rimontato sul 1-1 abbiamo anche avuto l'occasione per andare in vantaggio, di nuovo sul 2-1. E poi hanno fatto il gol del 2-1 e nonostante tutto, fino alla fine abbiamo avuto altre occasioni per poterla pareggiare. Ci racconti un po' cosa ha portato Dudu, il nuovo allenatore, nello spogliatoio? Sicuramente ha portato tanta serenità, oltre che a livello professionale è molto bravo. Ha portato tanta serenità che forse mancava un pochettino anche perché i risultati quando non arrivano, ovviamente la serenità viene un po' a mancare. Sicuramente ci sta dando fiducia a tutti e ci dà tanta forza e tanta carica. Il suo modo di fare è quello di giovarsela alla pari con tutti, senza avere paura di nessuno. Lui dice che noi andiamo in campo, se sono più bravi di noi ci stringiamo la mano e sono pienamente d'accordo con lui. Tra i delle prossime quattro partite le giocate in casa contro Monterosi, Giuliano e Juve Stabi in mezzo alla trasferta sul campo della Turris. Quanto conterà questo minicampionato e che avversario vi aspettate domenica questo Monterosi? Innanzitutto pensiamo a domenica che è quella principale, poi pensiamo alle altre. Domenica sicuramente avremo una partita molto difficile perché loro sono una squadra compatta, la classica squadra di Serie C. Sì, sono una squadra compatta che fa tanti gol però ne subisce anche tanti. Quindi noi sicuramente scendiamo in campo per fare bottino pieno, perché per il nostro morale e soprattutto per la classifica, che dobbiamo muovere i punti. Grazie.